una cosa non dovete perdere di vista carissimi davanti al signore un solo giorno è come mille anni e mille anni come un solo giorno il signore non ritarda nel compiere la sua promessa anche se alcuni parlano di lentezza egli invece è magnanimo con voi perché non vuole che alcuno si perda ma che tutti abbiano modo di pentirsi il giorno del signore verrà come un ladro allora i cieli spariranno in un grande boato gli elementi consumati dal calore si risolveranno e la terra con tutte le sue opere sarà distrutta dato che tutte queste cose dovranno finire in questo modo quale deve essere la vostra vita nella santità della condotta e nelle preghiere mentre aspettate affrettate la venuta del giorno di dio nel quale i cieli in fiamme si risolveranno e gli elementi incendiati fonderanno noi infatti secondo la sua promessa aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova nei quali abita la giustizia perciò carissimi nell'attesa di questi eventi fate di tutto perché dio vi trovi in pace senza colpa e senza macchia